per radiofonica.com siamo al 110 caffè per la terza serata dell'uni music prima serata di sezione autori e siamo con il secondo gruppo per l'intervista ovvero i siderea siderea che sono alessandro chitarrista daniel bassista federico batteria e manca luca cantante e chitarrista come nasce il progetto musicale dei siderea nasce nel lontano 2007 quindi sono passati un po di anni e niente eravamo amici un po di un po di progetti diversi siamo incontrati e poi alla fine siamo venuti fuori facevate parte già di qualche altro gruppo quindi abbiamo sempre suonato diciamo siamo una compagnia dai superiori quindi soliti gruppettini e niente ecco e c'è qualcosa che caratterizza in particolare questo progetto desideri a livello musicale ispirazioni varie diciamo che abbiamo cercato di seguire un percorso sul filone rock italiano infatti la nostra preparativa è cantare in italiano e un'altra preparativa è cercare di creare un suono che non cerchi troppo di rendere la musica complicata ma di andare un po diretto come concetto diciamo di musica che sembrerebbe un discorso un po così però c'ha un senso voi cantate in italiano immagino ci sia anche stata una scelta dietro questa cosa insomma di cantare in italiano quindi magari date anche importanza ai testi quali sono le tematiche principali se sono più esistenziali o più invece sociali su questo sarebbe importante che luca fosse presente perché d'altronde luca scrive testi quello che ti posso dire parla di storie storie che viviamo abbiamo visto e questo è i testi di sideria allora voi avete suonato parecchio live vari festival magari soprattutto della scena locale e avete anche due p alle spalle avete progetti discografici oppure anche a livello proprio di tour diciamo che a giugno finalmente torniamo a studio e verrà fuori il primo cd nostro e dopo adesso vedremo quest'estate di cercare di suonare un po di più rispetto a questo inverno che è stato un po tra la preparazione dei pezzi nuovi e e anche la preparazione live insomma è stato un po morto periodo però cerchiamo adesso di l'estate di cercare di tornare un po la carica va bene allora in bocca al lupo per questa serata dell'uni music per radiofonica è tutto